Lunedì 5 marzo in Sala Viglione si svolta la conferenza stampa su Vivere a rate, libro e DVD per le scuole sul fenomeno del sovraindebitamento. Sono intervenuti consigliere segretario Tullio Ponso, delegato all'osservatorio Sura, il regista Enrico Maria Verra e il giornalista Marco Bobbio. Un prodotto multibediale costituito da un libro e da un DVD, Vivere a rate, vite da recupero, realizzato dal giornalista Bobbio e dal regista Verra, proprio per sensibilizzare ancora i giovani in questa piaga difficile che è quella dell'usura e dell'indebitamento. Vogliamo arrivare ai giovani con questo ottimo prodotto per sensibilizzarli di fronte a questa gravità. Vivere a rate è un progetto che ha dentro di sé un libro, un documentario, il documentario si chiama Vite da recupero, io sono il regista che ha scritto, che ha fatto il documentario. Che dire del documentario? È un percorso in un vortice, come scendere una scala a chioccia, è un percorso in un vortice e quel vortice sono i debiti, cioè quanto è facile indebitarsi, quanto è facile essere tirati a fondo e quanto è difficile risalire la china. Questo è un po' il racconto del documentario. Il libro che accompagna il DVD è un libro sostanzialmente di contesto, in cui le storie di indebitati e di sovrindebitati, di gente che ha avuto problemi con l'usura, sono inserite in un contesto, che è il contesto piemontese, quindi sono affiancate storie e numeri, in un'ottica sostanzialmente didattica per cercare di fornire una guida al debito per gli studenti delle scuole.